Noi siamo già al lavoro con il confie c'è per fare per fare il retta è proprio sopra, vuoi andare? Io ci ho già chiamato il mio piccolo basta basta c'è il 35 e poi invece ti è rimasto no ma poi guardate è un faccione, io immaginavo già, capito? Sì alcune parti, vedi, non sono in modo tale che ci siano comunque una sorta di sfumatura. Ti chiami tu? Martina. Martina, tu invece? Mayan. Eh? Mayan. Mayan, se hai paura, cosa che fai? La sposti. Come va? Tanto poi lo possiamo, non ti preoccupare. Eh? E gli altri che fanno? E gli altri che fanno, non ti preoccupare, non ti preoccupare, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Eh? Meraviglioso, dillo, dillo. Awag. E gli altri che fanno? Già se fanno, sì. Mi chiede ansione un po', un po', un po', un po'. È difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada